Musica 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 Grande partecipazione per un campione che ci ha lasciato in settimana entriamo però Raffaele sulla partita vediamo dunque gli schieramenti iniziali partiamo da Lecce Toma insiste sulla versione rivisitata e più equilibrata del suo 4-2-4 rimescolando di nuovo le carte in difesa dove giocano davanti al portiere Benassi Dario D'Ambrosio, Martinez, Di Maio e Ivan Fatic centrocampo con De Rose e Siacomazzi attacco a 4 con l'ex Filippo Falco Geda, Pogliassino e Ledian Memuschai il Pavia invece si presenta al Via del Mare con quello che sulla carta è un 3-4-3 ma in realtà è un 11 molto robusto e dalla vocazione barricadera in porta per i Lombardi Kovacic i tre centrali sono Torsi, Fasane e Meregalli con Capogrosso sulla destra e Monticone uno stopper riadattato sulla corsia di sinistra i due interni centrocampo Ferrini e Di Chiara con Messa Colli e la Camera a sostenere l'unico centravanti Cesca solo panchina per Beretta che proprio all'andata faceva una grande prestazione e una doppia Sì, il Pavia è venuto qua sa di giocare una partita su un campo difficilissimo troverà un Lecce arrabbiato che ha bisogno di questi tre punti è venuto qui abbottonato per poi ripartire e cercare di far male a questa squadra Iniziate il match con il fisco dell'arbitro che è il signor Mangialardi di Pistoia al quarto anno di Lega Pro non ha mai diretto il Lecce mentre ha portato bene al Pavia recentemente nella partita vinta 2-1 sul Como come dicevamo l'unica vittoria degli azzurri nelle ultime otto giornate in cui è arrivato il magro bottino di cinque punti con soli tre gol segnati oggi probabilmente la priorità di Roselli è quella di non prendere gol però in questa situazione bisogna trovare il modo per... Sì, pure perché se puoi sperare soltanto di pareggiarle le partite fai fatica a far punti deve dare magari un altro tipo di mentalità e sta su un campo decisamente difficile stasera come ho detto cercherà prima di non prendere per poi dar fastidio alla difesa leccese Manovra palla il Lecce con De Rose che scarica l'indirizzo del difensore Roberto Di Maio una titolarità importante per il trentenne centrale è arrivato al campionato iniziato dalla Nocerina che ultimamente aveva giocato piuttosto poco un giocatore molto forte di testa e sarà necessario per contrastare Cesca Cesca che prova a lavorare il pallone si gira bene c'è uno spazio per il centroavanti del Pavia prova a seguire l'azione sul settore di sinistra la camera che va all'indietro da Di Chiara il cross per il tentativo di puntata sull'esterno da parte di Messa Colli un po' la novità tattica di Roselli quest'oggi il numero 7 Messa Colli che va a lottare con Fatic i due si allacciano non spantirà l'assistente lo fa ora per segnalare la rimessa laterale in favore del Pavia Sì, vediamo lo schieramento che sta adottando Toma nelle ultime giornate questo 4-2-4 sulla carta però con gli esterni offensivi che hanno delle caratteristiche diverse perché Falco è decisamente offensivo mentre Memusha può dare sostanza al centrocampo e più equilibrio quindi il Lecce farà sicuramente la partita poi con i due esterni i due attaccanti cercando di mettere sotto pressione il Pavia Non ha sfruttato Capogrosso la possibilità di battere questo fa laterale riprende allora il movimento il Lecce con Tario D'Ambrosio che si appoggia a Filippo Falco giocato di prima del grande ex della serata poi il tacco di Bogliasino di Cedà cerca di vincere la marcatura di Meregalli ripiegamento pronto di Monticone torna anche la camera per cercare di gestire questo pallone carica ai danni del principale faccitore di gioco del Pavia non c'è però fallo per il signor Mangialardi ha già battuto la rimessa D'Ambrosio Praticamente il Pavia è tutto dietro la linea della palla lascia solo la punta centrale alta così per ricevere qualche pallone tenere su cercare di far salire sulla squadra perché adesso questo sarà il monologo della partita il Lecce farà la partita il Pavia lì a difendersi Buono il movimento di Memushai che poi perde l'equilibrio c'era lì dal fondo per Adam Kovacic il perno tattico come dicevi del centrocampo del Lecce è proprio Legian Memushai Toma lo sta rivistando come ha la tattica al fine di avere maggiore equilibrio pur mantenendo l'impostazione del 4-2-4 una lettura tattica Raffaele che può in qualche modo essere paragonata alla posizione che Ventura nel Torino ha trovato per Giuseppe Vives che qui tra l'altro conoscono molto bene e che come Memushai ha sempre fatto il centrocampista centrale ma andando a cercare sull'esterno può dare avanzate ficcanti e soprattutto ripiegamenti sull'intermedio che farà diventare il centrocampo a tre in fase difensiva Hai detto bene Stefano e questo cerca l'allenatore di questo giocatore perché è un giocatore importante che dà sicuramente equilibrio e sostanza al centrocampo ma nello stesso tempo come hai detto tu con delle azioni ficcanti può proporsi in attacco Il lancio lungo di Di Maio ben schierato il leader della retroguardia Pavese Fasano poi non riesce a controllare il pallone d'orsi lo va a sfidare allora Mariano Bogliassino il cross dell'Uruguagia Rimorchio Sciaccomassi che va a disturbare anche la posizione del centramanti Zedà rimessa laterale in favore del Lecce la batte D'Ambrosio De Rose di Chiara Sibola De Rose ha la possibilità di allargare sempre molto molto denso il pavere ancora De Rose con Sciaccomassi che quasi gli apre lo spazio poi Falco cerca di andare a puntare il settore esterno trovandosi di fronte tre avversari anche Zedà fatica nel traffico libera di Chiara consegnando però il pallone al Tuma Silberto Martinez che sta impiegato sia sull'esterno che in mezzo la sua velocità gli permette di fare bene entrambe le cose però c'è la sensazione che come centrale possa dare un bonus ulteriore perché oltre ad essere un marcatore rapido e non ce ne sono moltissimi ha anche la capacità di alzare il reparto permettendo alla squadra di tenere un baricentro più avanzato Sì, sì hai detto benissimo Stefano per quanto riguarda adesso il Lecce stanno cercando molto Boiasino nei piedi perché è l'unico in questo momento che sta trovando un po' più di spazio non da punti di riferimento perché stasera come hai detto il Pavia è venuto qui abbottonato e sarà difficile trovare spazio nelle maglie del Pavia quindi ci vuole una giocata di un singolo sicuramente per creare problemi a questa difesa Messacolli si sposta il pallone sul Mancino lo affida alla Camera che subisce la pressione di Terose esce con stile però l'ex centrocampista del Benevento che difende il pallone nel cerchio di centrocampo va ad appoggiarsi poi su Francesco Ferrini ancora per la Camera destro frittoloso quello del numero 10 del Pavia rimessa laterale per Ivan Fatic che può finalmente debuttare è arrivato il 31 gennaio dall'Ellas fin qui ha avuto un po' di problemi ha dovuto lavorare intensamente a livello atletico per trovare la condizione visto che nella prima metà di campionato in Serie B ha giocato poco ha dovuto anche imparare diverse cose perché non aveva mai militato in Lega Pro in carriera solo in Serie A in Serie B beato lui ha visto un altro calcio questo è un calcio diverso dove comunque ti devi applicare è importante è fondamentale calarti in questa realtà perché puoi essere anche un giocatore in un'altra categoria ma se poi vieni giù e non ti cali in quella che è la realtà fa fatica oltretutto sia lui che D'Ambrosi i due terzini in settimana hanno avuto dei problemi legati all'influenza per cui possono non essere al meglio della condizione rinvio di Cova ci chiede a profitto per andare a dare la buonasera a chi ci accompagna da bordo campo in questa telecronaca buonasera Silbermele buonasera buonasera a voi era prevedibile che l'inizio sarebbe stato questo con un pavia tutto schierato dietro la linea del pallone Lecce che però sta facendo grandissimo movimento con i suoi uomini più rappresentativi quelli dai quali ci si attende di più vedi Bogliasino vedi lo stesso Jeddah che fa tanto movimento e Toma che sta imitando i due esterni Falco e Memushai a proporsi in continuazione per rendere imprevedibile la manovra Memushai che mette in mezzo chiusura difficoltosa quella di Dorsi che poi va a lavorare con il fisico su Bogliasino calcio d'angolo in favore del Lecce bello il pallone tagliato dentro da Memushai comincia a provare ad alzare la pressione in Lecce gran palla gran palla hanno fatto due contro uno in fascia quindi il difensore si ha aperto uno spazio scuola la felinare di rigore prova la stoccata De Rose pallone alto sopra la traversa con questo tipo di attaccanti dagli esterni devono arrivare questi tipi di cross Memushai ha fatto veramente un bel cross e ha messo in difficoltà tutta la retroguardia a Lecce che comunque è iniziato bene con fiducia pure perché deve trascinare anche questo poco pubblico perché all'inizio dell'anno era uno spettacolo venire qui a Lecce purtroppo poi i risultati hanno allontanato un po' di gente da questo stadio il colpo d'occhio come si è detto nel pre partita è anche un po' sfavorito dal fatto che questo è un stadio da Serie A chiaramente ci sono presenze ben al di sopra della media di questo torneo però trovarsi in un contesto del genere ovviamente di vuoti parla D'Ambrosio primo tiro della partita l'ha portato Francesco De Rose che è un giocatore fondamentale per incollare i reparti e mantenere l'equilibrio ha saltato per squalifica la gara con il Trapani guarda a casa è arrivata una sconfitta per il resto è in un momento molto caldo visto che ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite disputate è un giocatore che dà equilibrio sostanza arriva al tiro è un giocatore d'esperienza quindi per questa squadra molto 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 importante Cesca riesce ad inserirsi su questo dialogo un po' lento non ne approfitta però il centrocampo Bogliassino tentare di trovare uno spazio per ragionare poi D'Ambrosio si appoggia a Martinez da questi a Fatic ma via tutto chiuso nella propria metà campo la vera decretazione di Fatic per Jeddah che viene controllato dal robusto stopper Raffaele Dorsi molto pugnace che sa battagliare con l'avversario e ha mezzi fisici interessanti però deve ancora un po' completarsi e rifinirsi domenica ha fatto abbastanza male ha avuto dei passaggi buoni però la sensazione è che debba progredire ancora questo ragazzo di 21 anni soprattutto in rapporto ai mezzi che ha sì quando si è giovane comunque si incappa in qualche giornata storta stasera sta qui in un campo in uno stadio importante di Serie A e ha tutti i mezzi per mettersi in mostro e far bene quindi sta solo a lui perché i mezzi c'è là prova con esperienza la camera strappare un calcio in punizione ma è regolare la chiusura di Martinez Sciacomazzi all'indietro per Di Maio si è allargato D'Ambrosio pallone immediatamente fornito all'ex terzino di Lumezzana e Triestina con calma D'Ambrosio per Silberto Martinez ovviamente il Lecce non deve avere fretta perché deve cercare di scrittolare questo blocco difensivo del Pavia progressivamente però è anche vero che non deve lasciare trascinarsi la partita perché poi magari un contropiede magari un episodio magari può subentrare anche un po' di nervosismo visto che sarebbe una vittoria per forza si loro sanno che questa partita la devono vincere assolutamente però non devono avere fretta devono far girare bene la palla e cercare di trovare spazio soprattutto con i giocatori davanti che sono bravi poi nell'uno contro uno devono essere bravi in quella zona di campo poi devono stare comunque attenti perché se si sbilanciano possono incappare in qualche ripartenza ficcante del Pavia la camera di prima per Di Chiara che cerca di lanciare Monticone ovviamente non molto a proprio agio nella metà campo avversario oggi la scelta di Rosselli è stata di schierare Monticone e non il giovane molto promettente Zanini come laterale per avere un difensore vero sulle piste di Filippo Falco si giusto per giocare uomo contro uomo con Falco che è un giocatore che in fascia può procurarti dei problemi se in giornale Giacomazzi c'è da appoggio vicino per Memushai che va a cercare spazi centrali non controlla con il tacco Falco che come abbiamo detto Raffaele è un grande extra l'anno scorso con la maglia azzurra è esploso segnalando 8 gol e segnalandosi come uno dei gioielli più puri di questa categoria all'andata ha un pochino patito l'emozione del ritorno al Fortunato sì però adesso ha la possibilità di mettere in mosso tutte le sue qualità perché il Lecce poi ha bisogno delle sue qualità e delle sue giocate quindi non c'è spazio più per i sentimenti eccolo il cross di Falco per il colpo di testa tentati in area di rigore da Mariano Bogliasino ancora un pallone alto ma ancora un messaggio mandato da Lecce vedi sia Memusha che Falco devono andare lì sugli esterni e mettere questi palloni in mezzo perché possono diventare pericolosissimi per i difensori quadrato Mariano Bogliasino senza dubbio il migliore della stagione leccese ha segnato 9 gol infrangendo qualsiasi primato personale per questo toma lo utilizza addirittura da seconda punta perché più sta vicino all'area e più è pericoloso torna a bordo campo da Silver Mello sì soltanto Stefano per dirti che ha avuto un grandissimo approccio alla gara Falco non solo nell'azione di cui è stato protagonista con il traversone al centro ma perché si propone in continuazione va a richiedere palla a D'Ambrosio per le sovrapposizioni non a caso ha avuto già un doppio applauso da parte di Toma che più volte lo ha chiamato in causa dalla panchina insomma ottimo approccio per una partita che lui sente come particolare il passaggio un po' rischioso quello di D'Ambrosio per Benassi che come sempre se la cava egregiamente cerca di impostare l'azione il capitano del Pavia Fasano correttamente dichiara sull'esterno per la camera che tra del pallone fa passare Monticone e poi fa di nuovo sulle piste di destra ottimo cambio di campo per Giovanni la camera provo di insistere il Pavia perde il passo però il paraguayano Messacolli libera il Lecce nella zona però di dichiara che falli indietro la camera è un giocatore che può dare qualità a questa squadra veramente per la categoria delle qualità molto molto importanti quindi è quello che si prende sulle spalle i propri compagni e cerca di mettere in difficoltà la squadra del Cese e il leader tecnico del Pavia ha fatto dei gol pesanti il rigore di Cremona e il tiro da fuori ma alzo la vittoria contro la Reggiana oltretutto è un giocatore che nei contesti più illustri si esalta anche se domenica ha avuto un incidente nella partita con il Cune ha preso un colpo alla testa comunque nulla di grave si è allenato regolarmente in settimana sì e poi anche questo inizio di partita dimostra che sta bene perché è quello che si sta facendo vedere di più De Rose per Memushay che prova a prendere il tempo chiusura pronta da parte della difesa mavese con Fasano deve lavorare con i piedi il portiere ungherese Komacic va lungo l'estremo difensore in presto alla Reggina e in odor di rientro perché sta facendo una stagione sensazionale il numero uno del Pavia anche se per dovere di cronaca va detto che domenica forse ha compiuto un mezzo errore sul raddoppio del Cune però è stato forse il giocatore con il rendimento più regolare e migliore nella stagione della squadra poi quando sbaglia il portiere che è l'ultimo baluardo si nota sempre di più però come hai detto tu sta facendo una stagione veramente eccezionale ha portato tantissimi punti alla squadra lombarda la posa lì dietro di Martinez per Di Maio che fa lavorare ancora Fatic ovviamente deve fare un po' di gamba Fatic ma anche lui è un grossissimo calibro per questa categoria buona scelta di tempo nella chiusura di Fasano ho provato a passare il pallone messa a Colli preferito a Beretta più trequartista e anche perché ultimamente subentrando dalla panchina ha fatto cose buone deve ancora un pochino trovare la sua dimensione in questa partita però può essere una scelta corretta perché Beretta è un grande talento però sta vivendo un 2013 un po' difficoltoso lui con la velocità che lo contraddistingue e anche magari con la voglia di sfruttare questa vetrina può trovare qualche pista interessante si come hai detto tu poi si va verso il finale del campionato e l'aspetto fisico è importante quindi adesso un allenatore cerca dei giocatori che stanno bene stanno bene fisicamente perché poi possono fare la differenza in una partita l'anticipo di la camera su Sciaccomazzi non riesce però a ricontrollare il pallone il pavia deve usare le maniere brutali il numero 11 di Chiara che diventa il primo monito della serata visto un fallo tattico l'arbitro Mangialardi ha mostrato il cartellino a Gianluca di Chiara si un cartellino giallo giusto perché è stato un fallo tattico è stato bravo a fermare l'azione perché Lecce si stava spingendo pericolosamente in avanti però è giusto il cartellino giallo ragazzi di 19 anni dichiara che l'anno prossimo probabilmente vedremo in Serie B perché ha fatto una stagione di grandi rivelazione e ne è presto dal Palermo ed è arrivato segnalandosi per le sue doti atletiche Rosselli lo ha plasmato dal punto di vista tattico presentandolo in tante posizioni lui sarebbe un terzino sinistro però quest'oggi fa il centrocampista centrale ha fatto la mezzala sembra preferire un ruolo più avanzato però forse la posizione in cui è da inquadrare anche in prospettiva di salto di categoria è proprio quella di laterale basso a sinistra si poi è un giocatore d'utile quindi un allenatore può usarlo sia a basso che alto al centrocampo punizione battuta da De Rose trova uno spazio e va in vantaggio il gol è annullato per posizione di fuorigioco si è spento immediatamente il grido del Via del Mare si è alzata la bandierina dell'assistente di Guglielmo andare a rivedere quello che è successo su questo calcio in punizione battuto da De Rose la sensazione è che ci fosse effettivamente qualche maglia giallorossa al di là della difesa pavese andiamo a rivedere proprio il movimento di Memushai che prende il tempo difficile valutare la sua posizione perché la difesa della Pavia era leggermente disassata diciamo che comunque è una situazione che anche in caso di leggero errore da parte dell'assistente era millimetrica però la palla in attivo può essere un fattore in questa partita tanto roba palla il Pavia ha provato il sinistro senza trovare un corridoio buono Messa Colli lotta ancora il numero 7 in coproprietà con il Cesena lotta troppo perché commette fallo punizione per il Lecce comincia forse ad alzarsi leggermente il ritmo della partita si 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 deve alzare pure perché adesso dopo una fase di studio il Lecce deve premere un po' sull'acceleratore come dicevo prima anche i calci piazzati possono essere un fattore per il Lecce perché magari non troverà tanti spazi in avanti perché ci sono tante maglie dei giocatori del Pavia e quindi può essere fondamentale sbloccare il risultato su una palla inattiva Calcione di Ferrini Aderose calci punizione per il Lecce risparmiato stavolta il cartellino giallo punizione facciuta velocemente per Falco con Monticone in cerchia non dà gli spazi si prende un dribbling secco fallo commesso da Monticone punizione per il Lecce arriva il signor Mangialardi in zona cartellino giallo anche per l'esterno sinistro del Pavia Mattia Monticone bravo 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 Falco a prendersi la responsabilità all'uno contro uno a saltare il proprio uomo adesso già ci sono due cartellini gialli questo può essere un motivo della partita perché poi devono stare attenti dopo i difensori del Pavia perché poi se rimangono in dieci diventa ancora più dura grande densità di fronte a Kovacic per questo calcio piazzato in favore del Lecce cercano spazio Shedame Buschai c'è anche Giacomazzi attenzione soprattutto al grande colpitore di testa di Maio solo uomo la camera la protezione del primo palo della porta pavese è pronto a battere Filippo Falco grande avvio come ci ha segnalato anche se il Vermele da bordo campo e Monticone non essendo un esterno lo sta battendo particolarmente anche preso un cartello giallo il difensore arrivato a gennaio la battuta tagliata da parte di Falco spinge il centroavanti del Pavia Cesca cerca di controllare ancora il numero 9 del Lecce la camera gli è addosso il pallone è buono per De Rose che disorienta Messacolli Falco può andare per il tiro cerca il primo palo trova la chiusura ancora della difesa ospite insiste il Lecce con De Rose grande pressione dei Salentini il traversone passa il colpo di testa di Dorsi mette fuori Cesca ma il Pavia è arroccato al limite della propria area di rigore si tutti dietro in questo momento a difendere la propria porta il cross potente di Bogliassino Memoucha non preme il grilletto aveva trovato lo spazio Memoucha ancora una volta suggerendo una buonissima partita Lecce tra una pista di carri i due esterni fino a questo momento i migliori in campo del Lecce veramente si stanno proponendo non danno punti di riferimento soprattutto Memoucha taglia il campo si butta in area di rigore quindi sta facendo una partita importante qui terminata a terra Cesca ma è alta la bandierina dell'assistente l'arbitro comunque non aveva considerato questo contatto fuori gioco calci punizione per il Lecce non è d'accordo Alessandro Cesca che ha segnato solo tre reti e sono in mezzo per un centramato titolare però è saputo come lui sia un giocatore estremamente utile perché si carica il peso di tutta la squadra è sempre un gioco redditizio per gli altri altro fallo commesso in mezzo al campo sta rischiando di Chiara perché è ammonito lo ha graziato l'arbitro ma potrebbe essere l'ultima volta Porto Campo Sivermele l'assistente aveva ampiamente in anticipo segnalato il fuorigioco di Cesca l'atteggiamento della fotografia ecco dei due tecnici Toma è consapevole che la squadra sta facendo bene sta spingendo ma è il momento di concretizzare e anche nell'ultima occasione ha fatto un gesto plateale alla panchina mimando il tap-in fallito da pochi metri da me e musciai e invece Roselli continua a indicare i suoi questo atteggiamento molto prudente e chiedegli straordinari alla camera è consapevole che la camera abbia la qualità giusta per caricarsi davvero la squadra sulle spalle e gli chiede di provare a trattenere il più possibile il pallone per far rifiatare la squadra non è un'impresa da poco Stefano anche perché è seguito come un'ombra dai difensori del Lecce in particolar modo D'Ambrosio è attentissimo su di lui è normale però Raffaele che l'allenatore chieda al giocatore più importante della squadra una partita così difficile responsabilità sì è il giocatore che ha le doti tecniche superiori rispetto agli altri che tutti si aspettano da lui quel qualcosa in più Bogliassino prova a servire sulla corsa Mibushai che trova di fronte d'Orsi la frenata del numero 7 il cross di prima da parte dell'Uruguagio Bogliassino è un po' fuori dalla porta Kovacic che riesce a smanacciare sulla testa di Seda fallo contestato al centravanti brasiliano che nell'ultima partita casalinga ha calato una doppietta all'umezzane interrompendo un lungo di giuno frutto però di problemi fisici che l'hanno spesso tartassato quest'anno se sta bene è chiaramente uno di un altro pieno sì sì assolutamente assolutamente detto benissimo Stefano andiamo a rivedere il cross con la leggera spinta di Zedano non tanto al portiere quanto a Monticone inquadratura anche per il tecnico del Pavia Roselli che come ci ha segnalato Silvio Ormele continua ad imporre attenzione ai propri giocatori manca il controllo in fase in cima di Maio prova il tiro a sorpresa alla camera ne esce un tentativo velleitario però poteva essere buona l'idea perché Benassi era fuori ha avuto un'idea geniale veramente poi gli è schizzata la palla all'ultimo quindi non l'ha colpita non l'ha colpita benissimo però Benassi era fuori fuori della palla poteva venire fuori un gran gol all'indietro Fasano per Adam Komacic il rilancio del giovane portiere ungherese Di Maio prende il tempo a Cesca deve lavorare Capogrosso che potrà andare alla rimessa gioco con le mani rientra dalla squalifica Gaetano Capogrosso è un ritorno importante perché in questa stagione ha avuto un rendimento molto soddisfacente crescendo anche tanto nell'apporto alla fase offensiva dichiara la partita sinistra Monticone cerca l'imbucata il numero 11 il pallone arriva a destinazione Monticone cerca un cross disperato e può andare assolutamente bene il calcio d'angolo anzi no sembra aver segnato il calcio d'angolo l'arbitro e invece si riparte con il rinvio dal fondo si c'è stato un contrasto andiamo a rivedere subito replay pronto e preciso forse c'è un ulteriore tocco di Monticone ovviamente il volontario con una mano dunque rinvio dal fondo per Max Benassi il controllo di D'Ambrosio la camera su di lui gli porta via il pallone ora Monticone deve andare al disimpegno sembra molto teso il numero 3 il pallone un ragazzo di 19 anni schierato fuori ruolo in uno stadio del genere contro una squadra del genere si si poi quando non magari non sei nella tua posizione fai ancora più fatica e devi concentrarti di più lui sa che poi è un giocatore molto importante da quella parte e in questo inizio di partita sta facendo un po' fatica a contenerlo tra l'altro non ha trovato spazio nemmeno in panchina quello che è stato fin qui il terzino sinistro titolare è una grande rivelazione del Pavia il classe 94 Zanini che ha fatto parte del settore giovanile nel Milan ma che è un prodotto vero e proprio del calcio pavese un ragazzo di 18 anni assolutamente da osservare perché sta giocando un campionato straordinario come alternativa per l'esterno di sinistra ci sarebbe Pasquale Turi anche lui potrebbe avere delle motivazioni extra questa sera perché è barese e per un barese giocare a Lecce sarebbe un derby no? è il sogno di tutti i baresi venire qua e vincere la partita rimessa laterale in favore dei Salentini 22esimo minuto sul cronometro il Lecce fa la partita ha avuto anche 2-3 palle gol possibili ma il Pavia si difende con ordine arriva Giacomazzi arriva il vantaggio del Lecce al 22esimo minuto inserimento perfetto di Ghisermo Giacomazzi che arriva a quota 5 in campionato primo corridoio concesso alla difesa del Pavia 1-0 per il Lecce gran gol di Giacomazzi perché si è inserito veramente alla grande ma la palla di Mouchet è stata bellissima la seconda volta che gli lasciano quello spazio e lui mette questi palloni in mezzo veramente tesi e forti che è difficile leggerli per la difesa e per un difensore Giacomazzi è stato bravissimo a leggere il corridoio che è andato lì con la sua classe a mettere la palla nell'angolino e qua hanno cercato anche di spiegarsi molti coni alla camera perché Giacomazzi c'è inserito totalmente indistrumata però ancora una volta è stato concesso troppo facilmente il rientro sul destro a Memocello stiamo rivedendo in questo replay poi c'è chiaramente un errore difensivo il Pavia il primo è arrivata una punizione c'è la camera che rincorreva a Giacomazzi non è esattamente il suo mestiere quindi qualcosa non è funzionato negli schemi difensivi Bordocampo Silber Mene sì assolutamente giusto meritato il vantaggio del Lecce che sta facendo la partita ti dico un'esultanza anche contenuta da parte della panchina giallorossa un applauso ai suoi ragazzi da parte di Tome subito l'invito a ricominciare a giocare così come sostanzialmente sta avvenendo delusione per Roselli perché evidentemente qualcosa non ha funzionato poco qualche minuto fa lo stesso Roselli aveva invitato Mere Galli a tenere gli occhi apertissimi una marcatura uomo costante su Jeddah però Memouchai stava crescendo progressivamente ed è stato fatale l'inserimento dalle retrovie lo ribadiamo postarci per quanto abbiamo visto finora vediamo il senso che cambia anche qualcosa l'atteggiamento tattico del Pavia a giudicare da questi primi istanti dopo il vantaggio del Lecce sembrerebbe di no 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 oppure perché sanno che magari un gol durante la partita lo potrebbero fare l'importante è non prenderne un altro ma questo gol è soprattutto importante per il Lecce che a risultato si sentiranno più sciolti e potranno giocare il proprio gioco anche se il gol è stato proprio un problema drammatico per gli azzurri negli ultimi due mesi solo tre realizzazioni di cui una su calcio di rigore nelle ultime otto giornate sono un po' però poi nel calcio non si sa mai quindi il calcio è bello per questo perché i numeri sono importantissimi e in una partita secca può succedere di tutto rimessa laterale in favore della Lecce la va a battere Ivan Fatic l'indirizzo di Pogliassino che prova a girare di prima è disturbato fallosamente calcio di punizione in favore della formazione di casa adesso vedremo se la Lecce cercherà tra virgolette di chiudere subito la partita o se continuerà a gestirla aspettando un altro momento buono si aspetteranno un altro momento buono stanno lì tranquilli il grosso diciamo che l'hanno fatto dovevano sbloccare il risultato perché non era poi facile quando una squadra viene a Lecce e si difende in dieci praticamente show di Pogliassino che salta sia di chiara che la camera e poi può allargare per Falco deve uscire di nuovo Monticone che temporeggia lascia molto spazio a Falco il cross arretrato del numero nove si salva in qualche modo il Pavia con il disimpegno di Meregalli ancora Sciacomazzi scivolato inizialmente Messacolli che non riesce ad entrare nelle pieghe di questo match in bucata interna stavolta per Falco arriva la chiusura di Meregalli e ora la camera è praticamente solo contro tutta la difesa del Lecce difende Palla cercando il calcio di punizione lo trova Giovanni la camera respira il Pavia si si anche se i difensori sono stati aggressivi ne avevano voglia di conquistare Palla ma qui dovevano aspettare ormai il grosso l'avevano fatto perché lui era di spalle alla porta e dovevano temporeggiare temporeggiare un attimo per quanto riguarda Monticone deve essere un po' più aggressivo sul Falco salta e può metterti seriamente in difficoltà quindi dovrebbe avere un po' più di coraggio ad andarlo a affrontare subito e cercare di non farlo girare perché poi se si gira e ti punta diventa difficile da marcare calcio di punizione affidato al sinistro di Luca Meregalli 21enne difensore Scuola Milan che da ragazzino prometteva molto bene si è confermato un pochino di intermittenza Bessacolli cerca di girarsi verso il sinistro vince un contrasto il paraguaiano poi sono troppi gli uomini di fronte a lui di testa dichiara con Capogrosso che deve retrocedere per gestire questo pallone lo gioca di prima all'indirizzo di Ferrini contro lo sbagliato da parte del numero 8 del Pavia rimessa laterale per il Lecce il Pavia deve fare qualcosa in più se vuole mettere in difficoltà stasera il Lecce che lo vedo bene in partita inquadrato e attento stanno facendo girare bene la palla hanno avuto pazienza e poi con i giocatori migliori stanno veramente salendo in cattedra e poi diventa difficile per tutti quanti perché a mio avviso la squadra del Lecce è la più forte del campionato un fallo stavolta commesso dalla camera su D'Ambrosio sono arrivati tutti due a mille su un pallone leggermente corto il contatto è stato piuttosto ruvido probabilmente una cinocchiata sull'esterno coscia di D'Ambrosio quelle che fanno male adesso sentirà dolore ma tra qualche minuto sarà lì a correre di nuovo e a lottare con i compagni D'Ambrosio che come diceva è arrivato a gennaio dal Lumezzano non ha giocato moltissimo ma è un laterale di affidabilità assoluta in questa categoria così come sta facendo molto bene in un'altra categoria il suo gemello Danilo Terzino del Torino sì Danilo che poi ho avuto come compagno di squadra oltre a essere un grande giocatore perché si vedeva subito che era un giocatore di Serie A è un bravissimo ragazzo e merita tutti i successi che sta avendo in questo momento Monticone riesce a chiudere Falco per lavorare il pallone dichiara probabilmente all'interno in avanti il giocatore di proprietà del Palermo c'è però rimessa laterale in favore del Lecce abbiamo visto anche un Roselli aggirarsi pensieroso dalle parti della panchina sì pure perché adesso è sotto di un gol vede che la squadra magari è impaurita in questo momento e non riesce a trovare degli sbocchi Fasano all'indietro per Kovacic disimpegno tremebondo quello della difesa del Pavia anche se il primo errore è stato probabilmente di Dorsic ha giocato al proprio capitano un pallone velenoso voglia a seno Fatic a tutta la corsia esterna per provare a pungere dalle parti di Capogrosso ma la crossa da tre quarti è una buona idea il pallone però lento di testa interno poi l'appoggio di dichiara per Ferrini che dimostra sangue freddo e va inevitabilmente dalla camera sì pure perché è l'unico giocatore che può inventare qualcosa in questo momento è quello che ha la responsabilità di farsi dare la palla e cercare di creare un qualcosa perché altrimenti per il Pavia è dura uscire perché poi riconquista palla talmente bassa che è arrivare dall'altra parte e si fa veramente fatica Pavia che ha diverse opzioni offensive in panchina addirittura tre attaccanti come Romero Gioè e Beretta poi un esterno sinistro di centrocampo Loperlu Sardi un mediano come Redaelli e un esterno sinistro invece difensivo come Turi oltre al secondo portiere Teodorani è normale che siano solo giocatori offensivi in panchina perché difensori solo giocatori in panchina 8 giocatori hanno caratteristiche difensive tra terzini e stopper quindi è logico che tutti i ragazzi che possono offendere stanno lì in panchina e magari li sfrutteranno nel secondo tempo se poi il risultato non cambierà è assolutamente comprensibile la decisione di Roselli di arrivare con una formazione decisamente imbottita calcio di punizione in favore del Pavia che ha le proprie intenzioni Francesco Ferrini giocatore che magari non esalta i palati confini per la sua estetica calcistica ma che ha un'importanza notevole perché è un jolly precisissimo e soprattutto un elemento che mette sempre tanto tanto impegno la punizione è corta il colpo in testa liberare nella zona coperta da Dorsi che allarga di nuovo all'indirizzo di Ferrini si prepara per un altro cross da lontano il numero 8 del Pavia sgomita e lotta Cesca e dice a disturbare il tipo di disimpegno da parte di Martinez Martinez che su balloni alti con Cesca può avere qualche difficoltà la camera cerca di convergere lo segue Falco il pallone portiere il tocco di Kovacic per Fasano Kovacic che oltre ad essere come abbiamo detto un ottimo portiere per i pali e anche un discreto giocatore con i piedi si si è visto anche in questo intervento è stato freddo e ha seguito il proprio difensore bravo la camera anticipato l'intervento di De Rose che non riesce a mantenere il pallone in campo rimessa laterale in favore del Pavia Lecce che sta un pochino rifiatando lascia per qualche istante di più il pallone agli avversari vediamo se Pavia riesce a costruire qualcosa fin qui Benassi praticamente inoperoso magari si abbassano per poi cercare spazi alle spalle dei difensori quindi può essere una doppia fase sia per respirare che poi ripartire e magari trovare più spazi in avanti Di Maio sull'esterno per Pekushai si muove incontro poi Ghiassino servito l'uruguagio arriva Dorsi che ha preso il pallone dunque non c'è fallo prova a ribaltare il fronte l'elettrico messa a colli con un sinistro che impatta forse sul braccio di Fatic ma anche in questo caso non prende decisioni laterna arbitrale Pogliassino in avanti Fasano ha letto in anticipo intervenendo di testa il suo disimpegno è però sbagliato arriva il legge con la puntata di Memushai conquista calcio d'angolo il nazionale albanese Memushai ha avuto veramente un impazzo sulla partita importante quello che sta mettendo veramente in difficoltà i difensori del Pavia quindi un'ottima un'ottima serata un'ottima partita e fino adesso il migliore in campo con Falco un po' indispettito il capitano del Pavia Gianluca Fasano che chiedeva a Memushai di confessare di aver toccato il pallone per un abbattuto dalla bandierina proprio di Memushai di testa allontana il sempre generoso Cesca poi arriva a recuperare un buon pallone capogrosso messa a colli può pensare al contropiede arriva a spegnere qualsiasi tipo di voglia Silberto Martinez bravo bravo Martinez ha seguito bene l'azione era rimasto dietro come ultimo uomo l'ha letta benissimo se di sete soprattutto pensa Roselli tocco di Meregalli per Fasano Fasano grande leader di una difesa giovane lui ha giocato oltre 100 partite per il Pavia ed è il capitano il grande baluardo di un reparto appunto giovane che ha in lui una guida esperta e sicura di Chiara è arrivato a togliere il pallone a San Tomazzi non è riuscito però a farne nulla qua c'è posizione di fuori gioco si deve disinteressare azione Memushai ma la sfera sfila il fallo laterale si questa poteva essere un'azione pericolosa perché non avevano visto Memushai inserirsi però è stato sbagliato il lancio ma poteva essere un'azione pericolosa però era anche buona la gestione della linea della difesa del Pavia perché erano alti allineati schierati con il re di Maio se li mettono subito in avanti scorca la sfera di Chiara deve andare ad aprire con l'esterno Meregalli per Monticone che prova ad autolanciarsi ma sullo spunto non c'è partita con Falco se i due esterni offensivi del Lecce stanno facendo veramente la differenza colpo di testa di Fasano prova a prolungare Ferrini Lottagesca arriva a Messacolli qualche spazio il Lecce in quella zona del campo lo sta concedendo Messacolli va a puntare De Rose poi frena il paraguaiano sta fuori per Ferrini tenta al sinistro Ferrini trova lo specchio della porta trova anche la parata di Benassi non era male perché Benassi all'inizio secondo me non l'ha vista partire questa palla è arrivata un po' in ritardo la palla schizza sull'erba poteva essere un'azione pericolosa che per ora non rientra rimane scollato nei reparti per approfittarne Pogliasino passa anche se dà il suo tiro è tenuto dall'intervento definitivo di Raffaele Dorsi calcio d'angolo per il Lecce ha provato il Pavia a tirare in porta e il Lecce ha subito risposto come stavamo dicendo se poi lasci spazio a questi giocatori che sono di una categoria superiore ti fanno subito male ma l'azione è iniziata da Benassi dai piedi veramente incredibili è subito innescato gli attaccanti quando trovano spazio sono veramente belli da vedere Lecce che ha deciso di lavorare il pallone su questo corno non ha crossato in mezzo ora addirittura D'Ambrosio Benassi che quest'anno ha dimostrato quello che aveva lasciato intendere l'anno scorso ovvero essere un portiere in Serie A si va bene ha dimostrato in Serie A di essere un giocatore di spessore quindi figuriamoci in questa categoria e poi è stato bravo comunque ad adattarsi perché come dicevo prima poi non è mai facile lo devi sempre dimostrare lui ha fatto una grande scelta di cuore ed è stato determinante anche domenica scorsa con il porto gruare Martinez con l'esterno per Fatic abbiamo rivisto anche l'occasione per Gietan a segnalare l'ottimo timing nell'intervento scivolato di Dorsi con l'esterno Ciacomazzi testa pervenuto ancora Raffaele Dorsi chiara poco spazio per pensare serve la camera cerca di girarsi la camera rischia parecchio il pallone schizza via rimesso laterale che sarà in favore della difesa fa fatica il Pavia perché nessuno allunga la squadra vanno tutti incontro e comunque poi veramente fai fatica perché è troppo distante poi la porta avversaria e devi scaricare la palla oppure prenderti qualche responsabilità e poi perderla come ha fatto la camera in questo frangente prende neanche un centimetro in questo caso il giovane Monticone che va battere proprio ridosso la bandina del calcio d'angolo calcio di punizione in favore del Pavia e torna a bordo campo a Silver Mello sì sì Toma ha provato addirittura a mimare verso la panchina che era tutta in piedi l'occasione avuta da Jeddah gli chiedeva sostanzialmente di tirare prima facile ecco chiaramente si era in velocità tutt'altro sul terreno di gioco grandissima partita di sacrificio per il Pavia c'è poco da aggiungere addirittura abbiamo visto la camera a ripiegare su un falco che ha una condizione fisica straordinaria è quello che sta correndo più di tutti e hai letto bene la partita perché c'è stato un momento in cui Lecce ha rifiatato si è accorto anche Toma che in quel momento ha chiesto sia a Memushai che a Boggiacino a correre ad aumentare anche il giro delle gambe in fase di non possesso si era accorto evidentemente che il Pavia provava a risalire a guadagnare metri e i suoi stavano rifiatando questo non deve succedere perché vorrebbe chiaramente blindare il risultato questo rimane Raffaele è un pochino il limite del Lecce ci sono parti della partita in cui i reparti si scollano ci si siede un pochino su questa costante supremazia tecnica e allora si aprono spazi che formazioni di corsa possono anche sfruttare si, si pure perché entri in campo deciso fai gol e ti sembra che poi il peggio sia passato però è in quel momento che poi rischi di magari di rovinare le partite perché poi quando esci dalla partita fai fatica a rientrarci e quindi è lì che il Lecce deve migliorare soprattutto in questo finale di stagione che si prevede veramente questo testa a testa col Travani che sarà vincente quindi se devono migliorare delle cose è proprio lì sulla testa dei giocatori ha usato le mani in maniera illegale Fasano a calcio di punizione in favore del Lecce abbiamo esaltato il grande lavoro fatto dagli esterni Falco e Memushai le punte magari leggermente più in ombra però i continui movimenti tagli, i veli di Pogliassino sono fondamentali si, sono fondamentali e lasciano spazio come poi è avvenuto il gol di Giacomazzi perché poi il movimento degli attaccanti porta fuori i difensori e lì si possono inserire i centrocampisti hanno fatto proprio il gol su questo tipo di azione Siamo discretamente lontani dalla porta di Kovacic ma Memushai si inaccia di provare direttamente il tiro in porta poi se la fa schizzare magari a terra che è un po' abbastanza viscido in perfette condizioni interno di gioco però leggermente umido si, è umido quindi potrebbe diventare pericoloso la battuta di Memushai il pallone il respinto di testa anche con coraggio di nuovo da Cesca ragiona il Lecce ora all'indietro per l'ex Brescia soprattutto Martinez D'Ambrosio non esce in pressing il Lecce gira palla placidamente Falco vuole palle nei piedi da D'Ambrosio perché come ho detto prima Monticone non è aggressivo e quindi può andare uno contro uno e può sfruttare le proprie caratteristiche se stavano parlando vuole palle nei piedi e vuol dire che in gran serata ha fiducia nei propri mezzi e fa bene D'Ambrosio se gli serve i palloni perché un giocatore quando ti chiede la palla vuol dire che si sente si sente la gamba giusta non era precisissimo il tocco di Sciacomazzi per Memusciai che è comunque riuscito a cavarne un calcio d'angolo il cross per Di Maio di testa fondamentale Fasani Di Maio è bravo su questo su questo tipo di azione ha fatto parecchi gol nella propria carriera è un giocatore di assoluto livello quando va in aria di rigore sulle palle in attiva addirittura 6 reti l'anno scorso in Serie B con la maglia della Nocerina per lui che fu un grande referente difensivo nella campagna di promozione dei Molossi di nuovo a bordo campo Silvio Armello trasborda talmente Falco con la sua condizione che in precedenza lo avete visto ha richiesto a gran voce il pallone a D'Ambrosio che invece ha preferito andare per via orizzontali e D'Ambrosio lo ha ripreso ha detto datti una calmata non interrompere più l'azione mentre gioco ma ecco questa azione intanto sfuma ha dovuto addirittura calmare D'Ambrosio il più giovane compagno di squadra che ha una foga e una condizione questa sera che è davvero eccezionale ha portato bene il pallone fuori Capogrosso che ora ha allargato all'indirizzo di Messacolli entra Messacolli che è mancino può provare il tiro De Rose però gli sbarra la strada il petto ci dà per Sciaccomazzi prova a distendersi il Lecce il pallone allargato per Pogliasino parte di nuovo Falco che però apre lo spazio per il lavoro di altri bene bene il Lecce quando si distende quando ha spazio è veramente bello da vedere una fallo forse qua su GEDA applicato di nuovo la norma di vantaggio Sciaccomazzi ora ha servito Falco cerca di mettere in mezzo a metà fra il cross e il tiro però era una bella fallo non si sono capiti però era perfetto sul secondo palo ma Bemouchi invece di inserirsi voleva palla nei piedi nel cuore dell'area rigore ma lì non si sono capiti qua il Pavia va tutto velocemente il rinvio e sembrava poter avere anche spazi per impostare c'è un pallone che per Raffaele 10 centimetri all'interno del campo in una zona molto isolata l'arbitro ha deciso comunque di far notare anche l'unico tifoso del Pavia con una bandiera nel settore ospite vorrei veramente fargli un applauso è sicuramente una grande testimonianza d'amore forse il fatto che si giochi di sabato sera può aver favorito questa trasferta solidaria il rilancio di Kovacic colpo di testa di Cesca un movimento a streggere di Faticce il pallone all'indietro a Benassi che si prende tutto lo spazio possibile e rilancia ancora una volta perfettamente su panco D'Ambrosio toccato in maniera dura da Cesca arriva l'arbitro che si limita però ad un rimprovero nei confronti di Alessandro Cesca un eccesso di generosità non c'era assolutamente cattiveria no assolutamente è arrivato a mille all'ora non è riuscito a frenarsi non c'era cattiveria anche se poi comunque il contrasto c'è stato non la pensa così D'Ambrosio a giudicare l'aviale pure perché l'ha scarpata l'ha presa lui quindi Ciacomaz Falco gli condizioni ancora qualche metro di troppo Montigoni si deve essere così aggressivo e non gli deve dare assolutamente spazio perché se stasera si gira ti salta sistematicamente Martina si viene lasciato libero di impostare e a piedi assolutamente in grado di farlo a carezza solamente il pallone Ciacomaz si lavora nello stretto di Chiara molto bene messo a Colli cerca di seguirlo sulla destra Capogrosso forse è fuori gioco Cesca il pallone viene allargato per il laterale napoletano ex dubbio Capogrosso subito affrontato e ne è scivolato da Fatich solo rimesso a laterale per il pallone Messacolli è bravo perché è mancino non ti dà punti di riferimento è sgusciante e lui potrebbe essere quello che può mettere in difficoltà la difesa leccese perché si sta prendendo qualche responsabilità lo scorso ha avuto una discreta esperienza Cesar Messacolli nella Serie B spagnola con l'Alaves è un giocatore che ha un talento chiaro ma non è mai riuscito a tradurlo del tutto sul campo quindi ha la possibilità di dimostrare il proprio talento e lo deve fare poi con continuità Capogrosso non riesce a controllare il pallone e neanche a spondarlo per il sempre isolato Cesca il numero di palla un po' complicato ma efficace da parte del Lecce De Rose di nuovo sull'esterno per Mariano Bogliassino giochettore veramente a tutto campo a tutto campo adesso stava qui a difendere la propria area veramente un giocatore di un'altra categoria un tentenamento da parte di Francesco Ferrini non è riuscito a controllare ad approfittarne del tutto Mariano Bogliassino e messa laterale in favore del Pavia qualche mentira da parte di Raffaele Dorsi Capogrosso può andare con le mani inevitabilmente all'indietro Dorsi su Fasano si è aperto Meregalli seguito il numero 6 non allargarsi Monticone Meregalli prende qualche metro e rischia tanto Martinez riparte Silberto Martinez ha una soluzione affidabile in Letty Rose che cerca l'esterno per Memuschai soffre enormemente il Pavia i tagli verso l'interno di Memuschai perché i due attaccanti non danno punti di riferimento e vanno via quindi i difensori li seguono a uomo e si buttano dentro o gli esterni o il centrocampista centrale di turno e mette in difficoltà sistematicamente la retroguardia del Pavia e abbiamo visto giustamente il Baluardo Pavese alla Via del Mare di Lecce Cesca riesce a mettere giù il pallone un buon lavoro da parte di Alessandro Cesca immediata però la chiusura da parte di Di Maio questa può essere una soluzione il pallone alto su Cesca dalla parte di Martinez però deve esserci sostegno sì devono giocare sulla seconda palla perché lui è bravo a tenere palla però poi deve avere come hai detto tu Stefano il sostegno dei compagni perché poi non crei nessun pericolo se non accompagni l'azione ancora una volta il lavoro e l'esperienza di La Camera per conquistare un calcio di punizione ossigenante che può anche diventare un episodio sì perché comunque il Pavia è una squadra ricca di colpitori di testa Dorsi, Fasano Mere Galli lo stesso Cesca soprattutto devono avere coraggio e battere bene anche queste punizioni perché possono essere come hai detto tu Stefano un episodio può cambiare la partita la battuta di La Camera esce benassi nel traffico allontana con i pugni Capogrosso può provare il tiro non riesce molto bene Levera la retroguardia Salentino Capogrosso è in avantaggio rispetto a Memushai riesce a girare il pallone in maniera promettente non approfitta però Messacolli Dorsi schiaccia la sfera al terreno di gioco Ferrini allarga ancora per Gaetano Capogrosso il movimento in profondità di Cesca non parte il cross del numero due del Pavia passa ancora Messacolli che va a cercare la camera D'Ambrosio Di Petto molto bene l'indietro ottima diagonale è stato bravo e poi Di Petto ha servito il proprio portiere vuol dire che sta bene concentrato e ha fatto una bella fase difensiva chiede scusa a tutti i benassi perché ha sbagliato di un metro e mezzo il primo rinvio della sua serata sì lui con i piedi è veramente fantastico oltre ad essere un grande portiere dichiara di nuovo in avanti era interessante il pallone tagliato per la camera un cross preciso ed era anche buono il tempo di inserimento del numero dieci del Pavia ancora una volta non risparmia una goccia di sudore Cesca che riesce a strappare le caratterie si pure perché dal niente è riuscito a conquistarsi un calcio d'angolo farà pochi gol però è uno è un giocatore di di assoluto carisma perché fa su tutti i palloni ha personalità e dà una mano alla squadra a farli salire su va a battere la camera ci sono portati tutti e tre i difensori centrali del Pavia in area di rigore la battuta di la camera con Cesca che sembrava poter rampire al colpo di testa perché ancora una volta era opposto a Martinez che ti regala diversi centimetri invece di un pallone schilato largo se era posizionato bene la palla gli è passata veramente veramente vicino può essere un fattore questo la palla inattiva perché da da un episodio poi può scadurire sempre un gol un finale in lezzero crescendo per il Pavia probabilmente però per la necessità del Lecce di rifiatare sì sì mi sa che il Lecce ha calato un po' i giri ha fatto un primo tempo a mille all'ora e quindi adesso è normale che stavano un attimo respirando e niente comunque il Pavia deve fare assolutamente qualcosa in più per ripensare la squadra del Lecce stasera senza recupero ha dichiarato chiuso il primo tempo l'arbitro Mangialardi di Pistoia vince il Lecce 1-0 sul Pavia decide fin qui il gol realizzato al volo dal capitano Salentino di Sermo Giacomazzi come abbiamo detto più volte è un vantaggio meritato perché il Lecce ha fatto rifatto e strafatto la partita ha messo più volte in difficoltà la difesa Lombarda andiamo a sentire proprio ai microfoni di Silver Mele quello che è stato il giocatore del Pavia più impegnato anche perché è il giocatore principale della squadra Giovanni Lacchiamera con Silver sì ricordando che il Lecce in silenzio stampa per questo non ci sarà la battuta di nessun giocatore dei Salenti nel nostro microfono partita di grandissimo sacrificio questo questo ha detto il primo tempo eravate venuti per coprirvi per fare una partita difensiva chiaramente il gol ha stravolto un po' le carte sì sicuramente dai sapevamo che comunque il Lecce sulla carta è una squadra in alta categoria quindi tocca tocca sacrificarsi tutti lo sapevamo dall'inizio quindi ci aspetta l'azione ancora più mister ti ha chiesto di fare gli straordinari di provare a mantenere più il pallone per far salire la squadra ma non è facile sei praticamente da solo lì in me no non è facile perché comunque ti ripeto loro hanno un gran ritmo quindi dobbiamo cercare ancora di più di farci dette nel palla per cercare di far salire la squadra l'ultima ma si può osare di più si può avere un po' più di coraggio si deve grazie grazie Giovanni la camera a te Stefano insomma le ultime parole di la camera danno anche un po' di carica al Bavia per il secondo tempo super spot per noi e poi torniamo al Via del Mare grazie a tutti a te Stefano